L'acquisizione della lingua dei segni dalla nascita da modelli linguistici fluenti è fondamentale per lo sviluppo cognitivo, linguistico e sociale dei bambini sordi. La lingua dei segni permette al bambino sordo di comunicare precocemente e articolatamente con l'ambiente circostante e soprattutto con i propri genitori. Hai risaputo, inoltre, che una prima lingua appresa in modo naturale favorirà enormemente l'acquisizione di una seconda lingua e altre. Poiché la netta maggioranza dei bambini sordi, più del 90%, a genitori udenti che non conoscono la lingua dei segni nazionale, devono essere predisposti servizi e supporto alle famiglie in modo che i genitori l'acquisiscano rapidamente e che il bambino abbia un contatto precoce con le due lingue, così da comunicare al meglio con tutti coloro che fanno parte della sua vita. Come evidenziato anche dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è importante assicurare a tutte le persone sorde il pieno accesso agli ambienti di apprendimento e di vita. In particolare, l'insegnamento in lingua dei segni va a beneficio dei bambini sordi. Come si legge invece nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia nel 2009, gli Stati parti si impegnano ad agevolare l'apprendimento della lingua dei segni e la promozione dell'identità linguistica della comunità dei sordi, per facilitare la loro piena ed uguale partecipazione al sistema di istruzione e dalla vita comunitaria. Il bilinguismo rappresenta una preziosa opportunità per il bambino sordo, la famiglia e l'intera società.